Entrate nel mondo di Sharp, dove la tecnologia digitale e dei cristalli liquidi crea emozioni purissime. Sharp, the human tech. Sharp, the human tech. Freelife, scopri la libertà. Signora? Ma sono l'amica perplessa, eh? Ma c'è il Gran Premio Grandi Marche. Che bella R che ha. Galbani e Saiba regalano l'Agostina. Gran Premio Grandi Marche, Grandi le Marche, grandissimi i premi. Iniziamo la raccolta? Ve lo dico io che cosa vi manca. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Tu sai giocare a scacchi, vero? Diciamo che ancora mi ricordo come si muovono tutti i pezzi. Ciao cavallo! Arrivati! Dai una qualità migliore al tuo tempo libero. Le mie piastre sono annerite. Usa Smac Gas. Poche gocce e tutto splende senza strofinare. Smac Gas. Pulito e splendore. Senza fatica. La passione, la tecnica, il cuore. Così nasce Alessandra Martinez. Il cuore del mais. Così nasce un olio dietetico e buono, leggero e ricco di vitamina E. Olio a cuore. Alessandra Martinez l'ha scelto come condimento ideale per vivere ogni giorno la sua leggerezza. Olio cuore. Leggerezza senza età. Io mi vedo, io vedo. Un colore brillante e multisfaccettato. Io mi vedo con Feria, dell'Oreal. Feria è la nuova tecnologia del colore. E la fine del colore piatto. Per un colore brillante e multisfaccettato settimana dopo settimana. Io mi vedo con Feria, dell'Oreal. Perché io valgo. Stagioni di miti cantati. Stagioni di contestazioni. Io, Francesco Guccini. Stagioni di belle illusioni. Quanto tempo è passato. Stagioni, il nuovo album di Francesco Guccini. Il martedì su Rai 2. Emozioni forti. Non sei più un dettaglio per l'omicidio, l'hai dimenticato. Queste non sono affari tuoi, Dave. C'è un altro mezzomato che fa ridi voodoo, tortura, infilza bamboline. È meglio che lasci perdere, Dave. Sono pagliaci, mangia i gambe. Credeva di essersi liberato per sempre da quel genere di faccende. Sto solo andando a sistemare le cose. Ora doveva combattere per vivere. Dovevi fare il prete, era meglio. In prima visione. Omicidio a New Orleans. Non voglio ricominciare, non ci casco un'altra volta, un'altra volta no. Stasera, 20 e 50. Rai 2. C'è un detto, l'amore non è bello se non è litigarello. Certo, questo argomento meriterebbe di essere un po' più approfondito. Io allora continuerò a mettere il naso nei vostri affari di cuore. Lo farò da lunedì al venerdì. Alle 14 su Rai 2. Mi raccomando, non mancatevi, aspetto. Smettila di piangere. Non incantiche nessuno. Nulla. Nemmeno il dolore più grande potrà mai spezzare la magia di un incantesimo. Basta un niente perché qualcun altro ne approfitti. Quell'infermiero. Gli gira sempre a tutti. Non mi stupirei che te lo portassi via. Altri amori, altre passioni. I chirurghi non amano operare familiare. Lo diceva sempre anche Barbara. In prima visione, la nuova serie di... Incantesimo. Giovedì alle 20.50. Rai 2.